La partita, questa è la finale, sede alla Vala Massi per l'Ira Vecchiana. Per il nostro, per il nostro, per il nostro, per il nostro, con Corazzo, siamo al primo cambio. Tutto regolare in questa prima fase. Vai Paolo! Cambiano le spalle dell'ultimo, viene indietro in tre spalle, e anche a con Corazzo hanno perso qualche elemento rispetto al principio di testa, ma le distanze sono abbiamente recuperate. Cambia Bellusco, cambia Pallonese. siamo al cammino 10 eccolo arrivare cambiamo praticamente il tempo temporale in testa mezzo giro di svantaggio per la squadra vincola siamo nuovamente al cambio siamo al cambio di meno 7 cambiano sempre in aguardo la squadra delle due squadre di casa hanno preso il momento di guardare sulla squadra di testa siamo nuovamente al cambio di meno 5 e ancora un chilometro per portare al termine in questa gara cambio di meno 4 820 al termine e il nusco per il nusco Paternese sempre posta le prime tre posizioni vai cambi si avviciniamo al cammino 2 Berlusco Berlusco Paternese con il scacchiato che cammino insieme ecco la campana campana è la campana dell'ultimo giro vai bene siamo al tra l'altro finale arriva Berlusco con 4 2 1 259 siamo qualificati per gli italiani atteniamo completamento della gara è la prima è la prima è la squadra della congolenza 2 in questa finale